Un saluto a tutti i nostri soci, soci dell'Associazione Bellonesi nel Mondo, a tutti i nostri amici, gli amici dell'Associazione Bellonesi nel Mondo, puntuali come sempre, siamo qui per anticipare il numero di febbraio della rivista Bellonesi nel Mondo che ha raggiunto i 55 anni di attività e di vita iniziata nel 1966, puntuale da 55 anni e arriva in tutte le case dei nostri associati ovunque siano in tutto il mondo, attraverso informazioni, notizie, approfondimenti che riguardano la provincia di Belluno in primis ma anche ovviamente tutte le molteplici attività e il vissuto dei nostri migranti, di tutti i nostri associati residenti nell'intero globo. Pronti quindi per questa breve panoramica? Apriamo subito le danze come si suol dire e addentriamoci nella copertina del numero di febbraio di Bellonesi nel Mondo, il numero 2. Come potete vedere rappresenta un'immagine di straordinaria bellezza antica con sullo sfondo un profilo che di sicuro tutti conosceranno, parliamo di Dante Alighieri. Quest'anno infatti saranno celebrati i 700 anni dalla morte del nostro poeta, del grande poeta italiano e questo è il titolo che accompagna la copertina Dante Belluno e l'italiano pilastri della nostra cultura da preservare e diffondere. A tal proposito il titolo dell'articolo di fondo del direttore responsabile Dino Brida è il seguente per i 700 anni della morte di Dante, quella lingua gentil sonante pura. La foto del mese ci porta ovviamente in una zona della provincia di Belluno che è stata davvero sommersa da tanta neve ma tutta la zona alta del territorio. In questo caso la fotografia ci è stata inviata da Edda Daroite e Marco Ganze e ci porta a Celat di Vallada. Andiamo avanti, scorriamo veloci le pagine di questo numero di bellunesi nel mondo che sta proprio per arrivare in tutte le case dei nostri associati. Troverete un'intervista a Riccardo Candeago, talento made in Belluno esportato in America. L'articolo è l'intervista a firma di Simone Torme. Ne andiamo avanti con un altro approfondimento del gruppo Giovani ABM a firma di Giulia Francescon e Ariella Scatcu che ci porteranno invece in questo caso in Canada con una intervista a Stefano Dalfarra. In primo piano invece il Covid-19 e il vaccino la parola ai bellunesi nel mondo. L'articolo a firma di Martina Reolone è un approfondimento. Martina ha intervistato diversi bellunesi da Daniele Dalviti in Irlanda, Alice Perenzini e Luca Sorpesa in Germania, Elisa Vignaga in Scozia, Silvia Deldini in Inghilterra, Laura Giacobbi in Austria ma ancora Roberto Zanandrea che è residente negli Emirati Arabi, Ancora Luca Urpi dalla Svizzera, Serene Verschior dal Belgio, Edestina dalla Corte dall'Argentina, Giovanni Talamini dall'Olanda, Lionella Brisinello dalla Croazia per poi passare ancora in America negli Stati, nel Canada con Maria Vedana, Stati Uniti con Joan Crepaz e Mauro Lazzarin e Andrea Lafisca dal Brasile. Diversi punti di vista che vi racconteranno appunto come stanno vivendo questa emergenza, questa pandemia ormai presente da un anno e com'è la situazione a livello di vaccinazione. Maurizio Busata invece firma questo articolo dedicato all'acqua, aumenti in arrivo, l'ABM chiede ai sindaci un segnale a favore degli utenti iscritti all'aere. Ma andiamo avanti con pioggia, neve, danni. Il belunese chiude il 2020 e apre il 2021 con il maltempo, un approfondimento proprio sulla situazione difficile che sta vivendo la zona alta della provincia di Belluno, un approfondimento anche con una intervista fatta ad Alex Barattin, delegato belunese del soccorso alpino, sempre in azione, 365 giorni all'anno. Speed, l'identità elettronica a servizio dei cittadini, novità che interessa anche i nostri emigranti ma anche i belunesi residenti in provincia e tutti i nostri italiani. Erasmus e Brexit, una triste finale per tutti i nostri studenti. Ancora IMU e scrittiari troverete, importantissimo, è un documento che è praticamente la dichiarazione sostitutiva del lato di notorietà in cui chi è in pensione e che vive all'estero è iscritto all'aere e dichiara appunto ai comuni in cui è presente una loro proprietà lo stato di pensionato. È importante per avere l'esenzione al 50% dell'IMU. Andiamo avanti, notizie anche dal Parco Nazionale Dolomiti Belunesi, tanti libri che sono recensiti e che trovate ovviamente all'interno del catalogo della Biblioteca delle Immigrazioni di Nobuzzati e adesso l'approfondimento riferito appunto alla foto di copertina di che lingua sei, come difendere l'idioma gentile. Questo è un approfondimento, una riflessione a firma della professoressa Rosa Girotto Cannarella. Jacopo De Pasquale invece firma un altro articolo dedicato alle molteplici iniziative che si svolgeranno anche in provincia di Belluno in occasione proprio dei 700 anni dalla morte di Dante Alighiere. Il gioiellino che troverete ovviamente stampato, l'originale è presente all'interno della biblioteca lolliniana di Belluno. Parliamo del codice della commedia trascritto da Sernardo da Barberino e è un estratto che troverete in questa pagina che rappresenta il canto, uno dei canti dell'inferno, quindi una meraviglia che potrete ammirare come copia ma che ci auguriamo venga esposta proprio in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante. Le pagine di mese in mese è una panoramica in merito a quanto avvenuto, le notizie principali avvenute e accadute in tutto il territorio bellunese, briciole di storie, dalle scritture con i formi agli strumenti digitali, la rubrica a firma di Paolo Doglioni. Foto e documenti delle emigrazioni, tante come sempre quelle che riceviamo. Viaggio nell'arte, la rubrica a firma di Lucia Carrera invece parlerà e ci racconterà il vissuto di Franco Fiabane, una mano che scolpiva emozioni. Ma scorriamo con un'altra rubrica, viaggio nella spiritualità, a cura del diacono Francesco D'Alfonso, parole chiave, davvero un approfondimento che ci fa riflettere. La rubrica invece bellunesi di cui si parla è un'intervista fatta da Irene Savaris a Thomas Defanti, il pioniere degli effetti speciali. Facciamo quindi in questo caso un salto negli Stati Uniti, mentre Luisa Carniel firma questo omaggio a Cesarina Pereira, prima donna sindaco, o sindaco come si suol dire adesso, della provincia di Belluno, è stata prima cittadina del comune di Pedavena. La rubrica sempre di Irene Savaris, Belluno Dolomiti, percorsi tra natura, cultura e puntini puntini, in questo mese dedica spazio alla Via Claudia Augusta, asse culturale europeo. Divagando, altra rubrica a firma di Gianluigi Bazzocco, Beata Neve, e per quanto riguarda invece la rubrica riflessione linguistica, a cura di Raffaele De Rosa, questo è il titolo italiano, se c'è usalo. Continuiamo a scorrere velocemente le pagine di Bellunesi nel mondo di febbraio con Bellunesi nel mondo dello sport, alla rubrica firma di Marco Odinca, che è un omaggio invece a Elia Barpi, il trichianese numero uno in Italia, tra gli juniors parliamo dello sci da fondo. L'associazionismo è un omaggio invece a Federico Bortolot, gelatiere scomparso poche settimane fa, un altro gelatiere, Buon Viaggio Memo, invece una figura storica della Valle di Zoldo, che faceva anche parte della famiglia ex emigranti degli Zoldani. Storie di emigranti, la testimonianza di un bellunese emigrato alla fine dell'Ottocento in Brasile, da Taibon al Brasile, una storia che si tramanda nei secoli. Il nostro dialetto riassume, anzi sintetizza il nostro dialetto a cura di Giochino Bratti con una poesia in dialetto Zoldano, le barzellette a firma di Rino Dalfarra tassativamente in dialetto bellunese e i proverbi bellunesi, in questo caso, che provengono dalla raccolta di Rino Budale. Terminiamo questa panoramica dedicata al numero due del mese di febbraio di Bellunesi nel mondo con l'agenda delle famiglie, pandemia e terremoto, la testimonianza della famiglia bellunese di Lipik Croazia. In questo scatto potete vedere la presidente della famiglia di Lipik, Lionella Brisinello, e diversi anniversari che si sono succeduti. La pagina dei ricordi, ricordiamo ovviamente le persone che sono venute a mancare nell'arco del 2020 e 2021 e ovviamente gli anniversari. Questa quindi la panoramica velocissima che abbiamo fatto riferita al numero di febbraio di Bellunesi nel mondo. Vi ricordo che per riceverlo basta diventare soci dell'Associazione Bellunesi nel mondo ed è giusto sottolineare che diventando soci dell'Associazione Bellunesi nel mondo o per chi lo è rinnovando la quota, perché adesso è tempo anche di rinnovo delle quote, non riceverete solamente la rivista Bellunesi nel mondo, ma con la vostra quota 2021 sosterrete tutte le attività dell'Associazione Bellunesi nel mondo con i suoi uffici, il personale, la Biblioteca delle Immigrazioni di Nobuzzati, il Museo Interattivo delle Immigrazioni, Radio ABM, il Centro Studi sulle Immigrazioni all'Etea e molto ancora. Queste sono le quote, 20 euro per ricevere la rivista in formato digitale, per la rivista invece in formato cartaccio la quota annua è di 30 euro per Belluno Italia, 35 euro per Europa, Sud America e 40 euro per Nord America, Sud Africa e Oceania. Vi ricordo che tutte le informazioni le trovate visitando il nostro sito www.bellunesi nel mondo.it. Grazie davvero per il vostro sostegno e per chi riceve già la nostra rivista, auguriamo davvero una buona lettura con il numero 2 del mese di febbraio 2021 di Bellunesi nel mondo, che sta per l'appunto per arrivare in tutte le case. Noi ci rivedremo di certo il prossimo mese con la panoramica dedicata al numero di marzo, perché come ben sapete l'associazione Bellunesi nel mondo non si ferma mai.